Signorina, ormai siamo tre uomini che... Che c'è? Che c'è che c'è? Almeno non è che mi pare che quando la donna ti resta e ti chiamano ci dici Tu ci dici, sono un uomo che a me Ma per ripetire, no? Insomma, scusate signorina, se noi siamo a prestazione da l'uomo è finita che non tanto Siccome siete nuovi, avete detto qua, chiedete ad Amedeo se potete restare per parlare un po' con noi Per darci qualche numero, non vorremmo crearvi un problema Giusto, vado a chiedere e poi tocca Ma vedete come parlate, assimigliate gli ombrelli Ma insomma, è possibile che si vengano in bucara tutta la cucchiarena Comportatevi persone di pervene una volta tanto, no? Ha ragione, allora facciamo una cosa, facciamo Lasciate parlare a mia, che se non è più giovane, può essere buro caro Che il lavoro non è un brilocco, no? E cos'è un brilocco, una stela che sta in cielo e brilla? Più o meno, però noi non la bimicela E per terra sono due comete, due di due Signorina, scusate signorino Vi volevo dire, no? Secondo voi Così, per dire, no? Chi è il più appetitoso tra noi? Da una donna Capita, che ha come un parri volere i bigliatacacitete? E ma per il signorino Volere dire lui, chi fra me e lui È più attraibile con una donna Scusate signori, è stato l'interno che c'è un dolore, non è che troviamo tante soluzioni Avete trovato qualche numero per chiamare? Sì, sì, io ho amiche, adesso vedere posso chiamare Sì, sì Ludmilla Pronto? Ludmilla, ciao Sì, Elena Sì, io sono a lavoro, devo fare presto Volevo sapere, se tu lavori C'è posto come badante? Ah, sì Tutto il giorno? Ah, va bene, va bene Sì, Svetlana, sì Chiamare lei allora, sì Va bene Ciao Ciao Ludmilla, ciao Non ti faccio Ma la vostra è il nome del mezzo Pronto? Svetlana, ciao Sì, Elena Bene, grazie Sì, io sono a lavoro Sì, parla Amedeo Amedeo, sì Uomo piccolino ma ha grande cuore Sì Svetlana, sì Ti chiamavo Perché ci sarebbe posto come badante Per tre uomini soli Ah, capisco Ah, tu hai ragione Sì Va bene Da Svitania Ciao Allora, cosa hai detto questo? Come è alta, bionda Gli occhi, come ce li ha Lei è molto alta, sì Sì, grossa Sì, bella Alta, alta Poi c'ha tre figli E c'ha anche un occhio di vetro E dire se vuoi sistemare come posto di lavoro Sì, che vuoi dire? Sì, vuoi dire che ci avevi pagato i concebuti per ma postare in Italia Eh, oppure spostare con uno di voi per avere visto per restare in Italia Sì, sì E poi guardate, mi ho guardato a me E io vedrei poi come buon compagno per Svetlana Sì, un occhio di vetro Sì, un occhio di vetro Siamo un idrico in tutto il cuore C'è l'azzo Ma non è meglio se ci pensi un po' Sì, ci pensavi già E poi non esiste solo questa sultana sull'anno Comunque azionato Sì, ci chiamavano E signorina Elet Non è che avere un'amica con tutti i cosci e i cani Io ho un'altra amica Ma anche questa per lavorare Vuole sistemarsi in Italia con regole per stranieri E cioè vuole star volare a nozze Eh, tutte le amiche arrivate qui in Italia per stare tranquille Vogliono volare a nozze E io se non trovare famiglia che sistemare me come lavoro Sì, ho bisogno anch'io di matrimonio per restare in Italia Quello che io non ho trovato un uomo Io non voglio un uomo giovane che può tradire me e scappare Io voglio un uomo maturo che amare me Noi donne russe siamo fedeli Però un uomo meglio se è più grande E buono E soprattutto non bere per volare a nozze Io Cacciando qualche piccirino la tavola non bere E un aereo bello piccolo piccolo Per solvolare a nozze io ce l'avrebbe Io per diabete non bere Io ho divorziato da belli anni E quindi io potrei sposare subito Cioè ma io devo vedere se questo viaggio mi conviene o no E puoi avere casa dove noi andare dopo? Sì? Sì No? No, no, no Ma tu spieghi così l'uno Che è la casa E dopo te dire E non parli Non dici niente Ancora non capisci questo buonetto Mi fai giudito i Rodolfo Ma vandello tutti i trucchi E non capisci questo buca che stava cercando Ma si stava pari a pari E la dici? E mannaia, mannaia Se per la casa per fatti me E le cireo E che ti pensi? Che non mi accorgi Perché mi guardava più Pura mia cacu dell'occhio E poi Cacu, cacu dell'occhio Altezza e metà bellezza E se mettiamo il fascino dell'uomo maturo Sì, ma no, tanto maturo Cosa che ci vuole diventare spazio? A me, a me pari a casa signorina Già scegli io Sì signora Tu capisci che non capisci? Che ho catanesa? Che ho catanesa Che ho capito Che ho stato puttato Che ho aiutato con voi Da casa Ma io mi c'era una Ma mi avevo pedipeda Una che non conosco Perfetto E poi mi menti Per me Vivi con noi due Da casa Una bella himmina Come qui C'è c'è E' già Bene Allora io andare Devo andare in questura In questura In questura Aspettatevi Accomodatevi signora Accomodatevi signorina Allora Siccome qua è il mio amico E' All'amicizia Alla questura Voi Andavur con lui Asnavur con lui E che vi porti Noi A tre mesi Io me ne prendiamo Una cosa Allo bar Vi porto a lui Che è all'amicizia Siamo lì Allo bar Tanti Venga Ma io E bene con me Tutti uomini Corteggiare Tu neanche guardare No A me piace Tua persona Yes Allora Lo so Tu ti preoccupi Che io Approfittare Il tuo cuore Per avere Tua casa Tui soldi Ma l'altro E che Non mi sento preparato Non mi aspettavo Di una proposta Di matrimonio Ci ho capito Tutte le cose Sì Ma tu non devi Dare risposta Subito E' giusto Che tu parlare Con i tuoi parenti Con i tuoi figli Tu hai figli? Sì Due Ma sul fora Sì Lei riuscola Che sa venire Da casa Viene Vendere Albertà E cosa vuol dire Per avere La libertà Vuol dire Che se ci davano Non so C'è posto Capo Cosa Viene Impegna La sanitaria Che è una cosa Che non può capire La sanitaria Chiusura Per la mente Si ne vede Quell'una Quanti anni è 39 E una figlia Di 12 anni Viene Bella come la mamma Sicuramente E ho papà Che fa Dove? Papà So papà Io non vedere più Perché io ho lasciato Io non vedere Da quando ero Ah E gli incinta Lui è un uomo Sempre piaco E violento Io Io Ho bisogno Di affetto Di amore Senti mio cuore Come batte Senti Ehi 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 Chi si Su Paglia di Socia Riparano Ponte Ma Tu Stanno Maschando Velen Senti Ma mia Bene Tu Sei Giovana Si Bege Si Si Lavoratore Che ti Manca Una Chega E E Ma I Giti Hanno Carticati Ma Pugano Avere Una Chega Se Tu Sei Da Mia Non Marito Dele Stas Sento Tu Che Ti Va Bene Lo Trovi E Ti Potrei Essere Padre Il Nel Parodano Nonno Se Proprio Vamo Haccevo Un Discorso Teo Diciamo Che Ti Posso Gare Un Testimone Alle Noz Ma Come Facciamo Alla Sacchi Dei Due Dopo Tant' Anni In Brigatini Entri Da Casa No Ai Paggione Fattile Eh Meda Mia E Delle Si Delle 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 Participazione Così E Delle Bravo Sicce Augure 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 Siccome Ricciate Non Minuto Tutti Doe Volere Ma Vi Spiego Che Io Non Ho Giorgio Non Ho Matrimonio E Non Mi Ho Non Ho Ho a fare un matrimonio perché sono già scusato, sono scusato con voi, ma mi pare possibile che io dopo tanti anni che ho stato insieme, potrino oggi di campare come voi, mi posso andare a rilascio perché io lascio l'acqua che scorre la doccia, ho i piatti che sono l'ordine, ora ho bisogno. Ti prometto che domani mattino, ti prometto che io non so, non so, non so, non so, non